Sei stanco e non hai voglia di preparare la cena? Vuoi assaporare piatti di pesce senza andare al ristorante, magari spendendo anche meno? Vuoi schioccare le dita e trovare la tavola imbandita di pesce, allora che vuoi tu? Pesce a domicilio, servizio innovativo e funzionale, offerto da Roberto Comanducci, ristoratore da Generazioni. Il servizio applica il concetto del ristorante al proprio domicilio, quindi prevede la consegna di portate pronte di pesce già cucinate e calde all'ora desiderata. Ma come funziona? Come se fossimo al ristorante possiamo consultare l'app dedicata che ci permette una vasta selezione di piatti e con un clic fare l'ordine immediato e anche ovviamente indicare l'ora desiderata di consegna. Possiamo anche ordinare il dessert e vini. Se preferite potete fare l'ordine anche tramite Facebook oppure per telefono sempre raggiungibile al 338 80 42737. Allora cosa aspetti? Scarica subito l'app gratuita su Google Play o Apple Store cercando pesce a domicilio oppure richiedi il catalogo sempre al numero 338 80 42737. Pesce a domicilio, come al ristorante, meglio che al ristorante. Pesce a domicilio.